Che autunno sarà per le aziende e per le imprese? Sarà un autunno preoccupante, un quinto delle aziende del sistema confederale rischia la chiusura e quindi significa che la chiusura della produzione significa per il nostro tessuto industriale, il nostro tessuto manifatturiero, affrontare una problematica di crisi che potrebbe diventare per alcuni settori anche irreversibile. Questo l'allarme è lanciato da Luigi Di Giuseffatte, direttore generale Confindustria Chieti-Pescara. Caro Energia, caro Bollette, la situazione non è certo confortante. Nelle province di Chieti-Pescara il nostro centro studi ha rilevato per una media azienda di 250 addetti Energivora un aumento del 227% del costo del gas, un aumento del 277% del costo della logistica che sta spaventosamente aumentando, legato tutto al prezzo del gas e dell'energia e stiamo parlando delle province di Chieti-Pescara. E quindi questo ci fa correre, ci fa in qualche modo chiedere alla regione, al governo e principalmente all'Unione Europea delle misure straordinarie. Ecco, il price cap è una esigenza del sistema europeo dell'industria e per l'Italia diventerebbe almeno una prima risposta importante. A livello invece di azioni di governo, sganciare il prezzo dell'energia a seconda delle fonti da cui provengono, in questo caso, delle rinnovabili rispetto al mercato finanziario dell'energia significherebbe avere già un abbassamento di un 20% del costo dell'energia. A livello regionale, noi chiediamo che la regione si attivi immediatamente per portare tutti i fondi PORFES possibili, diciamo, che riescono a riperire su bandi che sono misure già effettuate negli anni precedenti dalla regione che finanziano impianti di, diciamo, energie da rinnovabili, fotovoltaico e eolico. Su questo l'intervento deve essere immediato.